Il nostro resoconto settimanale sull'andamento dell'epidemia nella regione Campania. La scorsa settimana abbiamo avuto un episodio che ha riguardato il campo Rom di Secondigliano, un campo Rom comunale nella città di Napoli, dove abbiamo individuato alcuni positivi. La vicenda è cominciata con il controllo a una donna in gravidanza che abitava in questo campo Rom. Abbiamo immediatamente proceduto a fare i tamponi ai familiari stretti, il padre e uno zio che abitavano nella Rulotte insieme con la giovane donna. Sono risultati positivi entrambi i due familiari. Quando altri parenti hanno appreso della positività sono venuti in nottata dalla Serbia in macchina. Abbiamo ovviamente immediatamente individuato questi altri parenti venuti dalla Serbia, abbiamo fatto i tamponi a tutti quanti, oggi abbiamo questa situazione che rimane sotto controllo. Abbiamo fatto una ottantina di tamponi, abbiamo otto risultati positivi, tre di questi otto erano quelli venuti di notte dalla Serbia. Complessivamente le persone rientrate dalla Serbia nelle 48 ore sono 30. Questo conferma la necessità che il nostro Paese abbia un controllo sulle frontiere più serio e rigoroso di quanto non sia avvenuto nei giorni scorsi. Il governo ha deciso adesso di chiudere le frontiere o di stabilire altri controlli nei confronti di Paesi dell'Est che hanno una forte presenza di epidemia. Credo che dobbiamo fare ancora di più perché i controlli non sono rigorosi e non possiamo consentirci il lusso di avere un'epidemia da importazione. 30 persone rientrate dalla Serbia in 48 ore possono essere un problema. Ovviamente in questo momento non abbiamo il problema, è tutto sotto controllo. Abbiamo una squadra dell'Asda Napoli 1 che lavora dentro il campo Rom, che lavora anche per controllare gli arrivi, cosa che per la verità dovrebbero fare le forze di polizia e la polizia municipale di Napoli. L'Asda è impegnata soprattutto a controllare le condizioni di salute delle persone che sono residenti in questo campo Rom comunale. Ne abbiamo approfittato per consegnare mille mascherine a tutti gli occupanti, adulti e bambini. Ieri è arrivato a Napoli un pullman, credo, o sono arrivati in macchina, sono arrivati a Napoli ieri 12 persone provenienti da Lampedusa, 12 extracomunitari, credo portati a Napoli da un'associazione di volontariato. A Lampedusa avevano fatto i test rapidi, erano risultati negativi. Quando sono arrivati a Napoli abbiamo rifatto i tamponi a tutti e 12, uno dei 12 è risultato positivo. Voglio fare appello ovviamente a tutte le associazioni perché abbiano la massima prudenza e la massima attenzione e perché siano responsabili quando arrivano persone da altre parti del mondo. Quindi in questi giorni noi siamo impegnati all'ultimo respiro in maniera ossessiva e puntuale per rincorrere fino all'ultimo migrante oeste europeo che arriva in Campania sostituendoci nove volte su dieci al compito che è proprio delle forze dell'ordine o delle polizie municipali. Il mio appello ovviamente a che forze dell'ordine polizie municipali, governo italiano abbiano molto più rigore nel controllo delle frontiere e nel controllo degli arrivi dall'estero. Io credo che debbano essere bloccati i voli anche dagli Stati Uniti d'America oltre che dei paesi dai quali sono stati bloccati visto che l'America è oggi il paese con il più alto tasso di contagiati e di morti. In America, per capirci, il sistema funziona in questo modo. Se viene individuato un cittadino positivo con un tampone o con un test sierologico questo cittadino viene messo in quarantena per due settimane. Ma passate le due settimane non è che rifacciano il tampone per verificare se è ancora positivo o è diventato negativo. No. Passate le due settimane anche chi era contagiato è persona libera. Dico questo perché è capitato in questi giorni che un nostro concittadino sia arrivato dagli Stati Uniti d'America con un volo diretto New York-Fiumicino. dopo aver fatto le due settimane di quarantena ma era positivo perché nessuno lo aveva controllato e dunque abbiamo dovuto ricostruire la sua catena di contagi, di contatti l'aereo su cui aveva viaggiato la carrozza ferroviaria su cui aveva fatto il percorso in treno il pullman che aveva utilizzato e così via. Allora oggi la situazione è questa. Noi abbiamo aperto l'Italia più di un mese fa abbiamo aperto in pratica tutto probabilmente era una scelta obbligata perché non potevamo reggere più a lungo una chiusura totale per ragioni economiche, per ragioni di occupazione perfino per ragioni, come dire, di pesantezza psicologica. Abbiamo fatto bene, era inevitabile aprire ma il presupposto per stare tranquilli è che ci siano controlli ancora più rigorosi abbiamo consentito la mobilità interregionale fino a due mesi fa avevamo un blocco degli arrivi per esempio dalla Lombardia oggi è consentita la mobilità su tutto il territorio nazionale se aggiungiamo a questa mobilità piena gli arrivi dall'est Europa gli arrivi di extracomunitari gli arrivi di persone contagiate noi rischiamo di farci male allora è responsabilità della regione e della struttura sanitaria esercitare un controllo rigoroso su tutti ma non è che possiamo fare la corsa per andare a individuare anche l'ultimo migrante che arriva magari di nascosto o l'ultimo cittadino est europeo questo, lo ripeto, è compito che deve assumersi ma in maniera rigorosissima il Ministero dell'Interno e il Ministero della Salute ci auguriamo che sia così nei prossimi giorni noi abbiamo fatto la scorsa settimana o qualche giorno fa un'ordinanza che riguardava il trasporto abbiamo stabilito che fosse vietato l'ingresso sui mezzi di trasporto marittimo a chi non indossava la mascherina così come abbiamo reso obbligatorio indossare la mascherina quando si sta sui moli ad attendere il traghetto l'operazione mi pare che sia andata bene i cittadini hanno capito c'è ordine si rispettano le regole la task force nazionale ha deciso invece di non consentire il trasporto sui pullman e sui treni come prima del covid quindi per quanto riguarda trasporto ferroviario e stradale rimangono delle limitazioni al numero di passeggeri questo ovviamente determina problemi che cercheremo di affrontare nelle prossime ore perché se tu riduci il numero ai passeggeri quei pochi treni o pochi pullman che camminano alla fine sono ingolfati ancora di più e tanto per essere chiari non c'è nessuno in grado di esercitare il controllo non possiamo impegnare per intenderci il personale viaggiante della circunvesuviana dell'Eav a impedire che salga su un treno su un pullman chi non ha la mascherina questo è un controllo che non compete a chi gestisce il trasporto anche perché si determinano tensioni risse che vanno controllate da altre istituzioni noi dobbiamo entrare in quest'ordine di idee se vogliamo avere l'Italia che riparte siccome i controlli il più delle volte sono virtuali diciamoci le cose come stanno in questo maledetto paese che è fatto ancora di ipocrisia e di fare finta la sensazione che abbiamo avuto in questi giorni è che alle frontiere non si controlla niente se vogliamo mantenere aperte le attività economiche dobbiamo sapere che l'apertura di tutto comporta dei rischi quando si è deciso di aprire un mese fa si sapeva che le aperture avrebbero portato a qualche contagio in più ma se vogliamo reggere questa fase è indispensabile il senso di responsabilità dei cittadini i controlli non basteranno anche perché spesso non esistono allora il mio invito accorato un piccolo sacrificio con le mascherine un piccolo sacrificio con il lavaggio continuo delle mani una grande attenzione ad evitare gli assembramenti mi capita in questi giorni di fare delle iniziative vado in alcune sale congressuali quando sto per arrivare nessuno con la mascherina poi mi vedono arrivare e tutti quanti la corsa a mettere la mano non è che dovete fare bella figura con me dovete tutelare la vostra salute e la salute dei vostri cari cari nostri concittadini allora vi invito quando siamo nei locali al chiuso a indossare la mascherina certo poi si sta in un ristorante bisogna consumare un pasto ti togli la mascherina quando andiamo a passeggio andiamo sul lungomare se stiamo in mezzo a 5, 6, 7 persone quello è il momento nel quale assolutamente bisogna indossare la mascherina non facciamo tutto il contrario di quello che è necessario quando passeggiamo con la mascherina quando parliamo a 50 cm di distanza ci abbassiamo la mascherina così non funziona allora l'appello è avere grandissimo senso di responsabilità noi possiamo riprendere le attività e riprenderle anche con serenità a queste due condizioni governo nazionale attento molto di più ai controlli esterni e tutti quanti noi attentissimi a rispettare le regole di contenimento del contagio nel frattempo ovviamente io voglio accentuare e sottolineare il messaggio di fiducia e di tranquillità che stiamo dando da qualche settimana ai nostri concittadini al di là di questi focolai di importazione per i quali faremo un controllo ossessivo noi stiamo rilanciando l'economia della nostra regione e stiamo creando le precondizioni per uno sviluppo economico straordinario della campania cioè i mesi che abbiamo davanti saranno mesi di grande interesse e di grande ripresa poi vedremo a settembre ottobre quello che succede ma intanto stiamo creando le precondizioni per avere un vero e proprio boom economico della campania perché per quali motivi razionali propongo a voi questa prospettiva e vi indico diciamo la necessità di avere fiducia intanto noi stiamo completando e arricchendo il piano socio economico della regione campania credo che pubblicheremo sul sito della regione tra qualche giorno una informazione comparata fra tutte le regioni d'Italia cioè pubblicheremo sul sito della regione tutte le misure prese sul piano socio economico da tutte le regioni d'Italia quello che ha fatto la campania non è stato fatto neanche lontanamente in nessun'altra regione d'Italia siamo ormai oltre un miliardo di euro di investimenti che ci hanno consentito di reggere la società campana e di evitare tragedie le ultime misure che abbiamo preso sono queste credito alle imprese abbiamo deciso per le imprese che fanno investimenti da 300.000 a 3 milioni di euro di dare come regione un contributo a fondo a fondo perduto del 35% inoltre anticipiamo come regione per tre mesi anche il credito che è stato richiesto dalle imprese alle banche siccome le banche per decidere fare istruttoria prendono un po' di tempo noi copriamo questo periodo paghiamo gli interessi sul credito ricevuto dalle imprese facciamo davvero un intervento importantissimo per rilanciare investimenti e lavoro abbiamo pubblicato poi un altro bando per dare contributi alle imprese nel comparto turistico intanto voglio dire che la situazione del turismo è molto differenziata anche nella regione cioè quelle realtà turistiche molto proiettate verso i paesi esteri sono in difficoltà quelle realtà turistiche più rivolte al turismo campano stanno vivendo una condizione di presenze straordinarie a cominciare da tutta l'area cilentana nella quale vi è il tutto esaurito ormai da due mesi da due mesi non c'è più un buco libero quindi abbiamo una situazione diversificata noi dobbiamo dare una mano a chi ha maggiori difficoltà ovviamente ho fatto in questi giorni alcune iniziative ieri ho passato una giornata nella costiera sorrentina sapete che stiamo facendo interventi straordinari nel campo ambientale abbiamo attivato depuratori l'acqua è pulita arriva qualcosa a volte dalle navi che sversano a mare stiamo scegliendo in questi giorni la società di progettazione dell'ospedale unico della costiera sorrentina 65 milioni di euro entro la prima decada di agosto scegliamo la società di progettazione che comincerà a fare il progetto esecutivo stiamo finanziando opere stradali perché vorremmo creare un'alternativa all'unica strada della costiera sorrentina anche per ragioni di sicurezza stiamo lavorando per potenziare il servizio ferroviario ci vorrà un po' di tempo ma l'obiettivo è di raddoppiare la linea dell'EAV da Napoli a Sorrento stiamo dando incentivi ai lavoratori stagionali del turismo poi vi dicevo abbiamo pubblicato quest'ultimo bando per dare aiuto e sostegno alle imprese del comparto turistico si possono fare le domande vedete le informazioni sul sito della regione dal 20 luglio al 31 luglio daremo contributi molto importanti daremo contributi alle attività alberghiere a quelle extra alberghiere purché svolte in forma di impresa parliamo di un contributo da 2.000 euro fino ai 2 stelle 5.000 fino a 3 stelle 7.000 per alberghi da 4-5 stelle che magari fanno fatica ad aprire perché non ci sono clienti contributi a villaggi turistici aree di campeggio 2.000 euro ai villaggi fino a 2 stelle 3.000 fino a 3 5.000 da 4 in poi contributi daremo alle agenzie di viaggi ai tool operator alle guide agli accompagnatori turistici agli stabilimenti balneari e gestori di parchi divertimento alle attività legate al noleggio di strutture per manifestazioni e spettacoli attività di fabbricazione e commercio di articoli pirotecnici ludoteche attività fotografiche e quant'altro stiamo facendo uno sforzo gigantesco unico in Italia per reggere sui due piani la sicurezza sanitaria l'aiuto alle famiglie alle imprese ai professionisti ai pensionati stanno arrivando i contributi alloggiativi che la regione ha trasferito ai comuni perché i comuni poi diano questi contributi sulla base delle graduatorie comunali siamo arrivati a quasi 80 milioni di euro che noi destiniamo ai contributi per i fitti per il turismo oltre i bonus stiamo elaborando una campagna di comunicazione dovremo chiuderla entro questo mese altrimenti siamo in ritardo abbiamo già fatto qualcosa e significativo rispetto alla Germania per promuovere il turismo campano voglio dirvi di più quando vi ho detto stiamo lavorando per un boom turistico noi l'ho ripetuto in questi giorni stiamo cercando di assumere come dire come modello regioni tipo la Baviera una regione del sud Germania abbiamo verificato che oggi è possibile far decollare anche in un ambito regionale un sistema economico regionale con caratteristiche proprie è chiaro che siamo in un mondo globalizzato ma è assolutamente possibile se si fanno investimenti e se si prendono misure adeguate far decollare un'intera regione allora in questo momento noi stiamo aprendo cantieri la politica politicante sinceramente non ci fa né caldo né freddo siamo tutti concentrati sul lavoro sull'economia sui cantieri da aprire abbiamo consegnato alcuni cantieri ANAS e regione nell'area del Sannio stiamo proseguendo con investimenti nel campo delle ferrovie e dei porti della regione campania stiamo sviluppando interventi straordinari nel campo dell'ambiente uno degli obiettivi che abbiamo se vogliamo il boom economico è risolvere le grandi questioni ambientali storicamente gravanti sulla campania presenteremo la prossima settimana il completamento del piano di rimozione dell'ecoballe vi diremo esattamente dove siamo arrivati e dove stiamo andando per risolvere questo problema storico abbiamo presentato sempre a Benevento l'idea progettuale di potenziare la diga di campo Lattaro per risolvere definitivamente il problema dell'acqua potabile non solo nella provincia di Benevento ma anche in altri territori di Caserta di Avellì cioè stiamo affrontando in maniera definitiva i problemi dell'ambiente del ciclo delle acque della depurazione perché se non hai un sistema di depurazione efficace non vai lontano abbiamo potenziato già il depuratore di Cuma stiamo potenziando altri quattro impianti di depurazione un lavoro gigantesco che è la precondizione per avere un decollo turistico ed economico di livello superiore investimenti nel ciclo delle acque dell'ambiente a cui dobbiamo aggiungere gli investimenti ai quali stiamo lavorando definendo le progettazioni per i nuovi ospedali un miliardo e 300 milioni di euro da investire Pozzuoli Giuliano Nola dicevamo Costiera Sorrentina Ruggi d'Aragona Salerno tutta la regione sarà investita da questo programma di rinnovamento delle strutture ospedaliere fondi europei parte il nuovo ciclo di programmazione a gennaio uno dei progetti sarà il completamento della linea Napoli Sorrento via ferroviaria fondi della regione fondi cipe allora noi abbiamo creato le precondizioni abbiamo le risorse finanziarie abbiamo oggi tutte le condizioni per determinare in Campania un vero e proprio boom economico quali sono gli altri passi che dobbiamo compiere se vogliamo rendere effettivo questo miracolo economico campano primo noi dobbiamo operare una sburocratizzazione radicale del nostro paese della nostra regione avevamo programmato di dedicare tutto il 2020 alla sburocratizzazione e alle misure urbanistiche vediamo dove arriviamo intanto il covid ha avuto il peso che ha avuto ma abbiamo cominciato già lunedì scorso a eliminare il 70% delle pratiche destinate al genio civile continueremo così digitalizzazione totale piattaforma informatica unica della regione campania ormai siamo alla conclusione del lavoro eravamo partiti da sotto zero per le piattaforme informatiche della campania non zero sotto zero ci auguriamo ovviamente che anche a livello nazionale si vada avanti nella linea della semplificazione codice degli appalti eliminazione di questa figura di abuso di ufficio che paralizza gli enti locali riforma della giustizia sono temi giganteschi io mi augurerei che almeno alcune misure simboliche ma efficaci potessero essere prese rapidamente e cioè eliminazione di alcuni pareri ambientali che deve rilasciare niente meno che il ministero e l'ambiente anche per fare il dragaggio della sabbia in un porto una cosa ridicola ridefinizione del ruolo delle soprintendenze non possiamo attendere anni per avere pareri banali e così via mi auguro ovviamente che siccome siamo in Italia non passiamo da un eccesso all'altro mi riferisco al codice degli appalti noi abbiamo fatto in Campania in dieci mesi 70 impianti sportivi durante le universiadi e con il controllo dell'autorità anticorruzione io da mesi da anni polemizzo contro il codice degli appalti che paralizza l'Italia ma stiamo attenti ripeto a non passare da un eccesso all'altro quando si dice totale libertà per fare lavori a trattativa privata sotto i 150 mila euro fermiamoci un attimo perché non possiamo esporre gli amministratori locali alle minacce di camorristi e mafiosi tanto per essere chiari allora bisogna prendere le misure che tengano insieme la semplificazione ma anche la legalità basta per esempio fare una white list una lista pulita di imprese controllate preventivamente dall'autorità anticorruzione depositare la lista presso le prefetture dopodiché tu puoi attingere in quel caso anche a trattativa privata con tutte le imprese che vuoi sapendo ovviamente che bisogna fare una rotazione non possono lavorare sempre le stesse imprese come si vede si può semplificare ma tutelando gli amministratori ed evitando di mettere in mano pezzi di economia alla delinquenza organizzata danneggiando in questo modo le imprese serie e i lavoratori poi io credo che dobbiamo lavorare ad una misura di carattere fiscale generale per la campagna legandola alle zone economiche speciali non so se il governo nazionale riuscirà a prendere una misura del genere noi lavoreremo per una defiscalizzazione totale dei nuovi investimenti che si fanno in campania modello olanda e per la detassazione di tutti gli utili d'impresa chi viene ad investire in campania non paga niente per dieci anni basta creare lavoro e consumo poi arricchitevi a condizione che si rispettino relazioni sociali e ambiente ma per il resto defiscalizzazione e detassazione totale infine faremo sul piano economico una nuova tornata del concorso per l'occupazione di giovani in campania il primo concorso ormai è in atto i primi 2.500 giovani sono già andati presso i comuni a lavorare e fra 7 8 10 mesi avranno il contratto a tempo indeterminato parte il concorso per 600 giovani da assumere nei centri per l'impiego si fanno assunzioni nelle aziende che noi risaniamo siamo veramente alla vigilia di un miracolo economico campano se avremo la tenacia di concentrarci sulle questioni che riguardano l'economia il lavoro l'economia il lavoro la creazione di ricchezza perché se non si crea la ricchezza non la si può ridistribuire allora avremo un altro punto su cui mi auguro il governo intervenga quando si parla di appalti una delle croci sono i ricorsi al tar tu fai una gara ormai in Italia per ogni gara che fai quello che non vince fa ricorso al tar a volte si bloccano per anni opere pubbliche per autentiche stupidaggi quando si parte si parte se qualcuno ha un diritto da rivendicare magari avrà un risarcimento economico ma l'opera pubblica deve andare avanti allora mentre parliamo di covid mentre ci prepariamo a settembre ottobre stiamo lavorando con una determinazione unica in Italia a un progetto di miracolo economico campano vogliamo creare per un'intera generazione di ragazze e di ragazzi la possibilità di lavorare e di vivere qui nella nostra terra abbiamo e mi avvio a concludere due altre scadenze l'anno scolastico sapete che io ho considerato assolutamente irresponsabile da parte di tutte le forze politiche nessuna esclusa oltre che del governo la scelta di andare a votare il 20 e 21 settembre in Francia hanno votato in Polonia hanno votato stanno votando dappertutto avremmo dovuto se fossimo stato un paese serio votare l'ultima settimana di luglio e stavamo tranquilli e potevamo dedicarci in tutto il mese di agosto all'apertura dell'anno scolastico e alla tutela della tranquillità per le famiglie personale scolastico a loro irresponsabilità totale benissimo si vota 20 e 21 abbiamo dovuto aprire come tutte le altre regioni il 14 credo settembre metà settembre quindi si apre e si chiude perché è stato nominato commissario Arcuri Arcuri si impegna a dare i test sierologici a tutte le regioni anche le forniture scolastiche a tutti gli istituti scolastici che ne sono privi e dunque abbiamo fatto attenzione a non arrivare per ultimi e a prendere le forniture necessarie ma sappiamo che dobbiamo lavorare con attenzione per l'apertura dell'anno scolastico in Campania dovremo fare 180.000 test rapidi per quello che mi riguarda io mantengo sempre un elemento di non voglio dire di pessimismo diciamo di prudenza il governo ha assunto gli impegni è bene che ci prepariamo ad essere pronti come regione Campania anche se fra fine agosto e inizio settembre il governo non dovesse mantenere i suoi impegni il governo nazionale infine nell'ambito di questo rilancio della vita dell'economia della nostra regione abbiamo messo in piedi un programma di iniziative culturali che è veramente eccezionale io vi dico queste cose ovviamente le sottolineo anche con qualche partecipazione in più con qualche entusiasmo perché so quanto ci costano e quanto era difficile fare la programmazione culturale degli spettacoli in un momento come questo dove non hai certezze e dove devi fare anche grandi sforzi finanziari provate a informarvi su quello che avviene nelle altre regioni d'Italia oltre che sul piano socio-economico sul piano delle iniziative culturali ormai abbiamo mezzi di informazione che consentono ad ogni cittadino di fare direttamente le proprie verifiche abbiamo presentato il programma di un'estate da re a caserta una splendida iniziativa che ci siamo inventati quattro anni fa per valorizzare l'area casertana e la reggia di caserta che è un monumento splendido all'estate da re ovviamente si uniscono iniziative a San Leucio alla reggia di Cartidello a Capua in tanti comuni del litorale Domizio Riccardo Muti abbiamo avuto lo spettacolo nell'ambito di un'iniziativa le vie dell'amicizia a Pestum quello spettacolo sarà trasmesso sulle reti RAI il 23 luglio avremo Campania Lirica un altro programma di iniziative finanziate dalla regione Campania per dare respiro al teatro San Carlo 5 milioni di euro oltre che ad altri teatri teatro verdi altre realtà faremo iniziativa in tutta la regione cominciando da Piazza del Plebiscito un'iniziativa nel campo della Lirica parte il festival di Ravello è in atto il Napoli Teatro Festival a Napoli e in altre città della regione Campania parte il Giffoni Film Festival sono 50 anni facciamo i nostri auguri al Giffoni Film Festival parte a breve il festival della letteratura Salerno abbiamo decine e centinaia di iniziative che abbiamo deciso di finanziare anche in un clima di incertezza se non altro per dare respiro ai tanti operatori del mondo della cultura e dello spettacolo che sono in grande sofferenza allora sicurezza sanitaria e noi vi garantiamo un controllo ossessivo per non perdere la sicurezza piano socio-economico lavoriamo per un miracolo economico campano per creare il lavoro per un'intera generazione cultura teatro musica danza l'anima della campania l'anima di Napoli l'anima di una civiltà quella delle nostre città e dei nostri territori che ha rappresentato uno dei fuochi della cultura e dell'umanesimo e dell'umanesimo in occidente questo è il lavoro che stiamo facendo con grande determinazione con grande passione con grande entusiasmo al servizio dei nostri concittadini stateci vicino ed accompagnateci con il senso di responsabilità e con la prudenza non vi chiediamo altro un saluto a tutti quanti voi di un saluto di un saluto